Among Us è a tutti gli effetti il gioco del momento, tutti ne parlano, chi ama i videogiochi sicuramente lo conosce e sono stati davvero tanti i creatori di contenuti, gli streamer, gli youtuber che hanno portato questo gioco, che ci hanno giocato con i loro amici e devo dire che a queste persone mi sono unito anch'io, infatti anch'io con i miei amici sto giocando, sto dedicando davvero tanto tempo a questo gioco, come anche tantissime altre persone nel resto del mondo. Among Us è un videogioco multiplayer online disponibile sia per pc che per cellulare, il gioco parla, si fa per dire, di un gruppo di giocatori a bordo di un'astronave, ognuno dei quali assume uno dei due ruoli, o compagno di squadra o impostore. L'obiettivo dell'equipaggio è identificare gli impostori ed espellerli dalla nave, riuscendo però allo stesso tempo a mantenere intatte le funzioni della nave completando delle task, mentre l'obiettivo degli impostori allo stesso tempo è quello di uccidere tutto l'equipaggio o sabotare la nave senza essere identificati. Il gioco può essere giocato con una chat vocale o con una chat di testo. Partiamo quindi con le 15 curiosità di Among Us. E prima di partire, per chi non mi conosce, io sono Nick e in questo canale This Is Nick, il mio canale, porto video riguardanti le serie tv e tutte le curiosità che riguardano il mondo nerd. Se quindi non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Partiamo subito con la prima curiosità, che riguarda il fatto che Among Us in principio non era il suo nome originale. Infatti il nome originale che è stato pensato per il videogioco e con cui è stato registrato era Space Mafia. Ma gli sviluppatori hanno cambiato idea e l'hanno chiamato Among Us, mentre per la versione spagnola Between Us. Credendo che in questo modo il titolo sarebbe stato più adatto al proprio pubblico, e vorrei aggiungere io, è anche molto più family friendly, quindi possono scaricarlo sicuramente più bambini e anche persone più adulte. La seconda curiosità è davvero interessante perché il gioco è stato creato, pensate un po', da solo tre persone. Di solito si pensa che per creare un videogioco sia necessario un grande team di sviluppatori che ci lavorino, e nella maggior parte dei casi è proprio così. Nel caso di Among Us però è stato davvero molto diverso, visto che dietro al progetto sono state coinvolte solo tre persone, Forrest W., Marcus Bromander e Amy Liu. Terza curiosità riguarda il fatto che Among Us ha superato praticamente qualsiasi gioco nelle piattaforme di vendita. Enners Laugh, ovvero lo studio creatore di Among Us e che occupa i primi posti di vendita sulla piattaforma Steam, ha superato titoli di spicco del momento, quale ad esempio Marvel's Avengers Time to Assemble, videogioco di Crystal Dynamics, basato chiaramente sui supereroi della Marvel. Direi che per quello che è chiamato un semplice giochino per il cellulare non è affatto male. Quarta curiosità è che Among Us 2 è in piano di uscire. Enners Laugh ha confermato attraverso i propri account sui social che stanno lavorando per Among Us 2, e sebbene non siano stati rivelati ulteriori dettagli, si ritiene che ci vorranno alcuni mesi per essere lanciato nei negozi online. Tuttavia gli sviluppatori in realtà vogliono sfruttare la popolarità del momento, quindi per i prossimi mesi il gioco non verrà rilasciato, cioè non uscirà tra un mese, ma ci vorrà davvero un pochettino di tempo, anche se si pensa che il gioco sia già pronto. Questo ovviamente per dare ulteriore spazio e rendere sempre più ricco Among Us 1. Infatti circa una settimana fa l'uscita del gioco di Among Us 2 è stata posticipata ufficialmente. Quinta curiosità è che ci sono voluti ben 12 mesi, un anno, per svilupparlo. Un'altra cosa altrettanto impressionante del fatto che solo 3 persone abbiano sviluppato Among Us è proprio che ci sono voluti solo 12 mesi per finirlo. Avevano poche risorse, ma il design del gioco è così semplice, ma allo stesso tempo funzionale e intrattenente che non hanno avuto bisogno di altro tempo. La sesta curiosità riguarda anche un altro gioco del momento, Fall Guys, e infatti molti pensano che il gioco sia copiato da Fall Guys. Fall Guys e Among Us sono in qualche modo simili, specialmente nel design dei loro personaggi, quindi a dettagli alcuni si ritiene che potrebbe essere una copia. Tuttavia Fall Guys è stato annunciato a giugno 2019 e rilasciato il 4 agosto 2020 per Windows e PlayStation 4. Quindi dopo Among Us e sulla data di uscita di Among Us, vedremo nella prossima curiosità, capiamo che Among Us è uscito prima, quindi non può aver copiato Fall Guys. Inoltre, il fatto che i due giochi si assomigliano e hanno avuto il successo praticamente contemporaneamente può essere dovuto al fatto che la moda del momento è proprio questa, giochi con una grafica semplice online intrattenenti. La settima curiosità che abbiamo anticipato riguarda l'uscita di Among Us, infatti questo gioco è disponibile, pensate un po', dal 2018. Seppene Among Us abbia raggiunto la fama solo poche settimane fa, ovvero a fine estate 2020, la verità è che questo gioco è disponibile nei negozi online dal 15 giugno 2018 e oggi ci sono milioni di giocatori simultanei. L'ottava curiosità riguarda i creatori di questo gioco che, sebbene siano solamente tre, in Nerslof, ha comunque creato altri due giochi. Stiamo parlando di Dig to China e The Harry Stickman Collection. Non a curiosità riguarda la trama di Among Us. Sebbene molti giochino ad Among Us in modo frenetico, ovvero iniziando una partita, finendola, per poi ricominciarne subito dopo un'altra, il gioco di per sé ha una trama. Si arriva nella situazione di gioco con una storia. Infatti l'astronave che ospita il gioco sta facendo ritorno al pianeta d'origine dopo una missione, ma nell'equipaggio si nascondono due impostori, ovvero degli alieni che hanno come unico scopo quello di eliminare interamente l'equipaggio prima che arrivi a destinazione. L'arma principale dell'impostore e degli impostori è però quella della paura e della persuasione, creando discordia tra i vari membri dell'equipaggio, riuscendo, se è bravo, a prevalere tra di loro. Decima curiosità, ovvero che il titolo del gioco Among Us ricorda in modo limpido ai vari fan di Pokémon Among Us, ovvero un Pokémon di doppio tipo erba-veleno introdotto nella quinta generazione, conosciuta anche come monocromatica. E nel web, immancabilmente, i fan si sono sbizzarriti con svariati meme dei più disparati e quello che vi faccio vedere adesso è uno dei più carini. Undicesima curiosità. Imbattendosi nella quest dello scanner sull'astronave, ci si imbatte a sua volta in quelli che in effetti sono le misure dei protagonisti di Among Us. Chiaramente hanno tutti lo stesso peso e la stessa altezza, e le dimensioni sono 3 piedi e 6 pollici per l'altezza, che corrispondono esattamente a 1,06 metri, quasi 1,07, a metà, e per il peso 92 libre, ovvero 41,73 chili. Piccolini, diciamo, non molto grandi. Piccoli, piccoli, piccoli. Curiosità numero 12, siamo quasi arrivati alla fine, e per questa curiosità parliamo di dati. Prima dell'esplosione del gioco sulle varie piattaforme, per due anni gli utenti collegati erano 10.000 ogni giorno. Ora invece gli utenti collegati su Among Us sono ben 300.000 ogni ora. Prima 10.000 al giorno, ogni 300.000 simultanei ogni ora. Il gioco ha superato la soglia dei 2 milioni di downloads in sole due settimane. Incredibile. Un traguardo, direi, pazzesco. E 2 milioni sono praticamente ora gli utenti che si collegano giornalmente a questo gioco. Tredicesima curiosità. Si pensa che i simpatici omini siano stati copiati da un vecchio gioco intitolato Space Channel 5, dove la protagonista si imbatte più volte nello spazio in questi strani alieni chiamati Morolian, assolutamente simili, come possiamo vedere dalle foto, ai simpatici personaggi di Among Us. Quattordicesima curiosità. Sempre sullo stesso finone dei hanno copiato i personaggi da, troviamo anche i Teletubbies. Tutti coloro nati negli anni 90 sicuramente conosceranno i Teletubbies. 5 amici colorati che vivono in un mondo tutto loro e che hanno comunque alcune cose in comune con i personaggi di Among Us. Parliamo dei colori, ma non solo, adesso ci arriviamo. Comunque, li conoscete, se avete più o meno la mia età sui 20 anni, ma anche poco più o poco meno, se siete genitori, li conoscete i Teletubbies. State sprucerti. Comunque, prendendo la parte più bassa della tuta dei Teletubbies, possiamo notare una palese somiglianza con i simpatici personaggi del gioco. La notate, no? È pazzesca. Arriviamo ora alla quindicesima curiosità e che riguarda Among Us nel tecnico, nel lato tecnico. Infatti si pensa, a detta di alcuni, che arriveranno nuove modalità per Among Us. Infatti arriveranno, a detta di alcuni, come ho già detto, nuove modalità o espansioni della mappa per il gioco. Infatti i creatori del gioco, come detto poco fa, hanno momentaneamente annullato l'uscita di Among Us 2 proprio per migliorare il gioco attuale ed inserire quindi nuove migliorie. Che sia la volta di vedere qualche nuova modalità, nuova, per rendere più dinamico il gioco e non ripetitivo. Voi che modalità vorreste? Cosa vi piacerebbe vedere in Among Us? Scrivetemelo chiaramente nei commenti. Per oggi il video termina qui. Io vi ricordo di lasciare like al video, iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram e date un'occhiata anche agli abbonamenti. Le ho inseriti qui sul canale per chi vuole sostenere questo mio canale. È una cosa, ovviamente, che fa chi vuole. Io ve la lascio qui. Lo potete trovare qui sul mio canale, c'è il tasto abbonati e il tasto iscriviti. Comunque, per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!